Terza giornata di regate qui a Livorno, mi sono divertito moltissimo, finalmente un po' di vento e quindi Give Me Five si è espressa per le sue potenzialità, è molto divertente soprattutto la prima regata con 16-18 nodi, abbiamo veramente allungato il passo, sono divertiti per venire immediatamente fuori dalla flotta, è stato molto bene, poi ha fatto un quarto posto però la barca non è ancora ottimizzata per le regole IMS, quindi direi che è un ottimo risultato. La seconda regata, vento da fuori, bellissima partenza ancora, abbiamo interpretato molto bene il percorso, quindi siamo contenti, sempre quarti ma più vicini diciamo come numeri al resto della flotta, perché si stanno davanti, quindi vuol dire che il piano, se avviciniamo, non è stato appunto il rating sfavorevole. Il equipaggio si è comportato perfettamente, ha colto sempre alle perfezioni ogni manovra, ogni ordine, quindi direi che sia la barca che il equipaggio sono all'altezza della situazione di questa regata, probabilmente in IRC saremo molto più felici oggi e anche gli altri giorni perché ne avremmo vinto alla grande.